Il professor Giancarlo Pruneri è uno dei massimi esperti di tumore al seno, opera all'Istituto dei Tumori di Milano come anatomopatologo. Professor Pruneri, perché è importante dal punto di vista anatomopatologo sottoporre le pazienti leggibili intergenomici? È fondamentale perché quando parliamo di tumori della mammella o comunque in generale quando parliamo di oncologia ovviamente ognuno di noi ha una propria specialità ma alla fine lavoriamo dentro team multidisciplinare quindi come dire è fondamentale per il team multidisciplinare, è fondamentale perché ci dà informazioni che l'anatomia patologica tradizionale non è in grado di dare, questo è stato molto ben dimostrato, nonostante l'anatomia patologica tradizionale sia estremamente importante per la diagnosi e per la caratterizzazione dei fattori clinico patologici quelli più importanti tradizionali e iniziali. Ma poi c'è un passo successivo che deve essere fatto che è quello di una identificazione prognostica e predittiva rispetto alla risposta della chemioterapia ed ecco che i test multigenici di tipo di biologia molecolare come il test Oncotype sono fondamentali perché ci aiutano a identificare con maggiore correttezza e appropriatezza la terapia per i nostri pazienti. E questo è sempre più importante anche dal punto di vista della scelta, oggi in questo convegno emerge come però ancora non tutte le zone elegibili hanno questo beneficio, perché? Ma allora abbiamo discusso ampiamente, i motivi sono molteplici, ci sono motivi di tipo infrastrutturale, naturalmente diciamo quando una nuova tecnologia, questo è un tema diciamo di filosofia della scienza se vogliamo, quando una nuova tecnologia deve essere distribuita all'interno di una società è chiaro che ci sono tutta una serie di ostacoli, alcuni dicevo sono di tipo infrastrutturale, altri sono perché dobbiamo mettere nelle nostre strutture che sappiamo in questo momento sono in difficoltà nel sistema sanitario nazionale in termini di personale e di fondi una nuova attività, ma quello che è venuto fuori molto chiaramente è che uno dei limiti principali è un limite proprio attitudinale, psicologico, cioè quello che diciamo il team multidisciplinare deve decidere di utilizzare un test per scegliere specificamente nei casi dubbi una terapia ed è chiaro che questo è una piccola rivoluzione perché come molte altre della medicina di precisione andiamo sempre di più verso una medicina basata sull'evidenza, più oggettiva, meno legata alla scuola di pensiero e ai pensieri personali del singolo operatore. Nel team multidisciplinare in questi anni in campo oncologico, ma in particolare nel tumore del seno, il patologo ha assunto sempre maggiore rilevanza? Sì, ha assunto maggiore rilevanza, questo sicuramente, il patologo in realtà è stato un po' sempre diciamo nel fulcro, diciamo laddove vengono generati i dati che ci servono per decidere come curare i malati, adesso lo è senz'altro molto di più perché c'è stata diciamo la rivoluzione della biologia molecolare e quindi il tema della caratterizzazione molecolare dei tumori che è comunque in capo ai patologi e che è diciamo una caratterizzazione che può essere fatta a livello di espressione genica oppure a livello mutazionale. È molto importante sottolineare una cosa, voglio sottolineare una cosa e questo davvero ci tengo, molti patologi possono sentire, percepire il fatto di dover esternalizzare un test come un diminuzio del loro lavoro, in realtà questo non è vero perché ormai siamo tutti in un sistema hub and spoke, siamo tutti hub e reciprocamente spoke in alcune altre circostanze, quindi sostanzialmente dobbiamo capire che rivolgiamo in un network anche di laboratori dove certe volte siamo noi il centro che esegue i test ed altre volte dobbiamo semplicemente diciamo esternalizzare il test perché c'è qualcuno che ha dimostrato più chiaramente, in modo molto chiaro che ha un test che funziona. Quindi certo il patologo è centrale ed è centrale proprio per questo tipo di attività che deve essere svolta quotidianamente nell'oncologia di precisione. Il patologo sempre più inserito nel team multidisciplinare è nella breast unit, ormai una vera risorsa. Certamente sì, non solo il patologo, diciamo tutte le attività del team multidisciplinare coinvolgono diverse professionalità ed è molto importante lavorare insieme. Questo è davvero un modello fondamentale che ormai dovrebbe essere presente e molto strutturato in tutte le realtà perché ci permette di superare i nostri limiti in realtà. Il team multidisciplinare non è per ridurre le competenze di ciascuno ma è per superare e moltiplicare le nostre capacità. È anche un tema dove vengono discussi i dati, dentro il team multidisciplinare vengono idee per fare ricerca clinica, vengono idee anche per migliorare la qualità della vita delle pazienti, c'è tutto il tema dell'approccio psicologico che deve essere valorizzato sempre di più per i nostri pazienti, quindi io credo fortemente a questo tipo di sistema. La battuta finale su Oncotaip, ormai dati letteratura, presentazione dei convegni, inserimento nelle linee guida, non c'è più motivo per non prescriverli? Certamente sì, è molto importante se ci ricordiamo, noi siamo partiti con l'esperienza diciamo autonoma, unica, iniziale dell'avanguardia di Regione Lombardia che aveva per prima prescritto il rimborso, determinato il rimborso di questi test e allora noi diciamo, mi ricordo molto bene, diciamo partiamo, non leghiamoci a un specifico test, lasciamo libero il professionista di decidere perché abbiamo bisogno di consolidare i dati scientifici, ecco dopo tre anni i dati scientifici si sono continuamente consolidati e quello che dobbiamo fare è seguire banalmente le evidenze, non farci influenzare da nostri pregiudizi, guardare quelli che sono i dati della letteratura e applicarli, per cui sono assolutamente d'accordo che un test con l'oncotype deve essere sempre di più diciamo prescritto, applicato, superando quel gap, quel deficit di cui parlavamo rispetto a quei test che avevamo previsto che ancora non siamo riusciti a fare in Italia ogni anno.